buonasera humarts family buon pomeriggio buon giorno non so chi ora state vendo questo video ma oggi siamo in compagnia di chi sei e ricordi che un po terrorizzato oggi perché è qui con me è il figlio di mio cugino che è quindi detto io devo sfruttare questa bravura questo ragazzino intelligentissimo che no non lo sa se intelligente però è fantastico allora acquisto io mi son preso la cosplay e sto faremo una specie un pipistrello che non ho molte idee però ho trovato questo non ridere ho trovato questi cabochon questi cabochon e vorrei fare un pipistrello visto che stiamo in tema all'ovinesco alza la voce fatti sentire anche nella vita ragazzi alzate la voce più convinto si alzate la voce tutti quanti esatto allora dico invece come vedete ha il suo bel testo che ha pre che abbiamo preso da tiger eccolo qua no lo chiameremo genna genna di genna rime qui è tutto bianco e dico siccome il papà di enrico sia mio mio cugino a un locale che si chiama calavera esatto a locale che si chiama calavera quindi cercheremo di fare un qualcosa da regalare al papà di enrico mio cugino quindi dico adesso tu che facci vedere che cos'è che c'hai a disposizione cose varie cose varie prendi di farli vedere lì il colore questa colori vari acrilici i pennelli ce l'hai ok fazzoletti acqua candele non ci servono le gare ricordiamo ai nostri follower che il video passato ho realizzato questa bellissima zucca con tutti i personaggi di nightmare before christmas che erichetto ha visto per la nuova volta ieri se vuoi parlarci di questo film che è piaciuto molto bello le canzoni i personaggi tutto bene ma puoi cominciare a dipingere c'hai dove mettere i colori sì ok mettiamo lì e scegli colori e comincia scegli a piacere tuo tu guarda c'è pure già delle delle cose qui in evidenza che poi già decidere di dipingere capito ok scegli il colore effetto da solo io faccio andare i video noi cerchieriamo parliamo mentre creo io non so cosa farò perché non ho preso nulla c'è per modellare non solo dovete capire che dico quindi far vedere una piccola come il nostro backstage ci abbiamo 1 2 3 luci una telecamera due telecamere 3 telecamera stiamo pieni barba d'urso non sei nessuno a barbara prendi colori che vuoi fai finta che loro non ci sono fai finta che stai a casa che colori e nello solo che ne so prendi il fucsia vedi questo è bellissimo e ti fai tutti costo costo questi qui fucsia e intanto comincia a modellare la pasta perché secondo me dobbiamo fare chiudi e sbattire un po scusate per la poca luce ma cercherò spero in posto produzione di poter mettere un po più di bianco per vedere quindi anzi a luce nella porta più in qua le cose in diretta sono le più belle mole ma si facciamo quello che vogliamo infatti guarda tu sei lì vedi ti stai vedendo bravissimo poi se vedi che troppo grande il pennello per il pennello più piccolino ovviamente entico vuoi dire tutti quanti nel frattempo mentre dipingi che classe fai cosa fai nella vita le tue passioni anche sì anche no anche sì anche a che cosa ti piace fare nei tuoi giorni quando non sei a scuola giocare per esempio uscire giocare a cosa giochi vari a fortuna anche preoccupare se si sporca lì ci passiamo il bianco dopo così lo dipingiamo tutto tipo trascurando poi comunque mi piace ci piace facendo varie varie emissioni come sta andando come procede vedere anche quello più piccolino se vuoi poi scegliere altri colori su questo blu che è bellissimo anche io intanto sto facendo qualcosa che non so cos'è però lo sto facendo bene direi che è perfetta la cosa e voglio fare un mini pipistello super carino e coccoloso ma domani dopo se abbiamo tempo di farci un ragazzo su acchiappa sogni che lo porti a casa come potete vedere di col collo porta un pan dragon di molto tempo fa ed è tornato a casa è venuto a trovarmi come si mi ha dato un nome a strada che terri come no è il trago quindi quando ti scriverà su whatsapp ti chiederò come sta per giorgio non sta bene ma non amici per cominciamo a parlare anche in dialetto così la gente ride di più ci fa ci prende per il tutto queste belle pare che utilizzerò sono grazie che abbiamo fatto è bellissimo non ridere di serio hai già capito che questi vanno sbattuti questi colori aspetto che uno sparnuto ragazzi dico se penso che una maglietta mia gli faccio fare pubblicità che devono dire comprate la sopra il negozio che trovate qua sotto al video c'è un negozio online t spring e comprate le mie comprate le mie le mie maglie anche questo lo sponsor by povere di guarda al posto sfruttando oggi non ti sto sfruttando a zio vabbè c'ho le manecce scusami non si dicono queste quattro a zio però c'è tutte le pellicine ragazze io odio l'inverno che cioè diciamolo per certi mesi solo per natale è bello sì perché la mia festività preferita avete il video per te questo video giusto per fare una cosa del genere ok mettiamo che carino è questo occhietto questo si chiama oggi come si chiama sto colore capo c'è un bermuda blu e l'ho preso da africa emporium bellissimi proprio bermuda come le bermuda il triangolo del secondo te parliamo di cose misteriose nel frattempo visto che stiamo ad allo non parliamo di cose misteriose secondo te il piano delle bermuda la sala leggenda come l'hai scoperta parla ne parlano ne parlano così secondo te è vera che chi va nel triangolo delle vero diventiamo le bermuda o bermuda bermuda il pantalone perché è un po secco no ci sta te lo giuro te lo prometto ecco è uscito una cacchina di arale allora e dicevo il triangolo delle bermuda ok secondo te bermuda o permute perché bermuda il pantalone verde vuol dire che c'era qualche altro colore che zio umberto che zio umberto non ha pulito bene all'interno e diventa un verde un po vomito verde acido molto acido la teoria che le barche scompaiono ieri che cosa ne pensi è vero non è vero ma no c'è così mi stai mi stai smontando un bo con questa risposta sì perché la gente può dire cose che vuole che spaventano domani come un è vero come una questione cioè non possiamo quindi non sapremo mai questa cosa se vera fammi capire finchè noi andremo con la madre affinché non ci abbiamo deciso come san tommaso non ci credo finchè non ci metto il naso questo è una cosa esatta anche se tu anche c'è io questo così a caso sapete il caso è una cosa indescrivibile perché perché nessuno può sapere cos'è il caso il caso che tutto succede per caso e noi non possiamo descrivere il caso che non lo per toccare è intangibile come come cosa perché il caso ci vabbè qua ci facciamo il bianco dopo di riconetti quando squadre se finirà questo video non so quanto durerà tanto lo taglierò un pochettino vedremo insomma come va a finire la situazione le orecchie le orecchie del pibistino vedi che vai perfetto secondo me è stato faccio giorno e sia così riprendi invece qua che sono queste questo tipo di gocce le fatti più di un altro colore sono quelli come come poco poco l'hai visto però ti è piaciuto bello anche quello è bello anche quello è bello è bello della disney ma è tipo disney plus esatto esatto però non facciamo sponsor no 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 perché perché non ci pagano ragazzi dico ha capito tutto della vita non facciamo sponsor hai ragione a zio c'è non parliamo di cose che perché non ci pagano esattamente le trova una cosa giusta però se ci piace qualcosa lo possiamo dire c'è un film disney tipo di marvelli quindi disney plus che ci è piaciuto ci piace tanto però sai che cos'è il primo trans lucente questo qua è sempre pasta polimerica come quella però questo è quel tipo diventa un po semitra e traslucido trasparente quindi ci faccio i denti nel rito ci facciamo i dentini a questo pipistrellino se ci riesco se se esce ma se vedere ecco tutto un perché perché per come ecco ritorniamo sempre a caso c'è il caso nella vita è molto utile è importante perché noi possiamo dire non so e quindi non sapere una cosa è il caso non sappiamo se la facciamo è certamente tipo chiede vogliamo fare una scultura non lo so e quindi per caso forse sì per caso forse no è giusto ragazzi la fila al discorso fila fila come la pasta e patate con la provola che abbiamo mangiato oggi buona questo facendo i dentini da vampirello qua guarda mi ricordo il natale di quando sei nato che ti abbiamo fatto vedere il babbo natale stavi piangendo comunque questo modo da zia luisa ma come fai a ricordarti di piccolo e come ti ricordi cosa ti ricordi esattamente aspettano quindi stiamo spoilerando che cosa stiamo poi dico c'è sicuro che vuoi dare questa notizia non aveva tempo e quindi ha dato l'incarico a perché può notare degli incarichi è presente simile presente mentre mentre passano in bagno dopo natale l'ha fermato gli ha detto porta questi qua questi regali a tutti quanti e ci ha dato pure il vestito la barba perché doveva essere abbastanza camuffato altrimenti altrimenti lo scoprivano non diciamo a tutti che babbo natale a degli aiutanti che si esistono come lui e vanno in giro perché ma come fa ad andare nel mondo dico io più che altro non lo sappiamo ragazzi questo è uno dei misteri come il triangolo delle bernette e invece degli alieni cosa mi dice secondo te gli alieni esistono sì 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 io dico sì motiva questa scelta motivo sì perché secondo me ci sono perché praticamente è impossibile che siamo gli unici esseri umani nel universo nella galassia perché l'altro che steven okins sai chi è steven okins è un fisico teorico cioè famosissimo e lui ha fatto un sacco di teorie un sacco di cose di scoperte sull'universo sulla nascita della terra dei pianeti eccetera eccetera e lui ha detto che praticamente siccome non l'ho visto proprio ultimamente questo documentario steven okins ha detto ma siccome noi siamo uno dei pianeti più giovani della galassia e noi riteniamo quella galassia infinita ok noi siamo pietà più giovani i pianeti più vecchi abitabili vuol dire che già c'è stata vita su quei pianeti quindi potrebbe essere che già sono morti su quei pianeti perché si sono autodistrutti come ci stiamo autodistruggendo noi perché noi facciamo cose varie schifo perché inquiniamo sì questo video non è più diventato delle creazioni ma è diventato parlare sulle cose i misteri misteri e vabbè io quando faccio video parlo di sacco la gente mi conosce sa che io parlo parli da solo è certo con loro aspetta però cioè loro stanno lì non possono comunicare no no mi scrivono i commenti vabbè dopo però a me nel mentre nel mente non possono farlo sicuramente ma quando è bellile che faccia dolce che c'ha guarda bello io non so perché ma forse ne lo state vedendo perché sto spostando le dita in continuazione cioè non ha senso questo video di esistere però video dove allora visto che stiamo ad allovin torniamo al tema horror paura pauroso eccetera ti piacciono i film horror no ma c'è un motivo perché non ti piacciono perché te li sogni la notte sì forse ah forse cioè hai mai sognato un qualcosa di horror perché come è venuto questo cioè che cos'era che non mi ricordo comunque volevo dire pieno le vacanze d'estate che è passato dobbiamo aspettare un altro po di che passi il corte e poi arrivano le vacanze e niente parliamo un po dell'estate ma vuoi parlare dell'estate come è andata questo è bene sono andato a roma a un parco divertimenti molto bello ah cinecittà world che figata non sono mai stata ho fatto la giostra la seconda giostra più pericolosa se non mi fai l'eleffante gigante che sarebbe come è fatto ovviamente è un tipo una torre gigante che mi ha detto voi non l'ho mai fatto mica con sotto in una cosa tu sei pazzo figlio mio ne poto migliore questo avendo bene mi piace come sta venendo è stato molto bello bravo bravo questo che stavamo dicendo non mi ricordo manco io ragazzi di sapere abbiamo fatto un attimo una pausa perché per fare i video stancate stancante il mio primo video ragazze secondo scusate perché il secondo perché non l'abbiamo fatta natale va bene proprio piccoli 3 3 anni fa un pezzettino dove parlasti che tu parlavi della teoria della scuola ecco che è perfetto che si ricorda tutto ragazzi ho paura ho paura che ti ricordi tutto non so come fai a memoria da urlo e aspetta vogliamo ricordare la tua teoria della scuola a tutti quanti che magari se la so persa va bene allora presenta già non so se non ha giocato praticamente ma alza la voce sennò il microfono non ti prendono praticamente ragazzi una teoria non mi ricordo bene praticamente che se noi nasciamo senza avere imparato niente quindi nasciamo giusta ma dicevo conosciamo dalla pancia di non siamo ignoranti ma si potrebbero nasciamo ignoranti senza l'uso della parola non sappiamo quello che come comunicare insomma siamo proprio dei quindi per me giusto cioè possiamo fare un'ora ma anzi scusate quattro tre ore di scuola al giorno al giorno quindi pochissimo sì perché allora se non lo sapete non mi ricordo quella nazione in cui non so se quello dove si trovano è meglio fare altro è più costruttivo fare tipo giocare che ne so ok in quella non già playstation magari giocare a calcio quindi sport giocare in generale con gli amici ma gioca vita e quindi secondo questo è fino a 13 anni non danno voti e né come dire pagelle fino a 13 anni non hanno voti e pagelle e quindi questi bambini non c'hanno mai l'ansia dei voti fino a 13 anni però poi dopo quindi dovrei andare in un paese adesso dovresti andare non c'è bisogno più di studiare anche se non si smette mai di imparare nella vita e regolando come sta venendo molto bene il verde non riesco c'è non so fare bene qua il vicino così questo quarto al centro attorno l'orbita oculare potete sapere che dico ha dormito qua in questa stanza scuola e ho lasciato tutte le ucine accese cos'è che ha detto quando dormito che sembrava una stanza fatata ho convinto che i draghi la notte prendono vita non ho convinto le nonna a te che ha detto stanotte non mi giuro che sto bene non si può parlare di questa cosa su youtube ragazzi di quelli di questa cosa che nell'area che rompe le scadre che non ci fa uscire bene dobbiamo tagliare penso che taglierò un po di starnuti no però c'ho tipo una cosa nel naso per non dire un'altra parola cattola che mi sta facendo vedere un turrito incredibile io ti rendi conto che non mi sono manco guardato dallo specchio per vedere come vengo il video come sto sto bene ho gli occhi rossi però eh quello è perché le luce e ciò le lenti a contatto quindi sembra un po' un vampiro in questo momento che parura è una gabbia di matti bella una bella gabbia di matti bella gabbia di matti soprattutto io eh sì e io carino ieri è venuto quella mia volta è venuto qua oggi intanto in camera ha visto tutta la stanzetta questa se la studiava e se ricordava che io sul mobile che ho là dietro c'avevo bruni di frozen 2 e la fenice sopra le avrà visti in un video sì sì molto tempo eh molto tempo cioè io ho detto guarda zio veramente non ci sono più li ho venduti che festività vi piace cioè anche come si dice si zerritevi nei commenti esatto esatto sai che sei un po' horror sono un bambino no ti immagini di sti bambini che guardano sto video ma dopo torni a scuola diventi famoso non ci può fare ma vabbè ti immagini di torni a scuola diventi famoso il tuo amico angelo già gliel'hai detto che ti devi scrivere no però glielo dirò invece di perdere tempo imparate a creare e fate esplodere la creatività dentro di voi a me io sai no te la so perchè tua mamma ti ha sempre fatto fare cose creative tipo lego ma proprio io parlo proprio tipo che ti faceva la plastichina a casa ti ricordi si 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 mi ricordo che queste cose chi viene la porta fa paura no non apriamo forse un pacco è verde questo giallo è verde va bene ma c'ha qualche c'ha le sfumature mi ha detto a mia zia hanno suonato alla porta tipo quei film horror stasera che ci sta mentre mangiamo una pizza ah si perchè dobbiamo fare la pizza io ma attaccalo si stacca questi qua sono cinesi dove nelle cinesi decine sat esatto stasera mentre mangiamo la pizza e vorrei vedere un film un film che film non saprei che genere non lo so che vorresti vedere ti faccio vedere la sposa cadavere è sempre fatto la stessa tecnica di nightmare before christmas se ne fate in stop motion con questi personaggi molto dark molto gothic molto c'è lo stile di barton si chiama creepy spooky ecco non lo so c'è la netflix certo che c'è la netflix certo che domanda mi stai facendo non lo so vabbè anche un fan e che cosa guardi su netflix tu? di solito gli anime titolo dell'opera? eh non posso fare perché non possiamo fare sponsor ah pure là perché sei previsto che non ci pagano dici tu eh certo se ci pagano facciamo gli sponsor eh non ci pagano mi dispiace ma ci dispiace disney plus e netflix mi ha detto che non ci pagate non ci pagate noi non parliamo di voi non parliamo di voi io volevo fare tutta una cosa figa all'inizio tipo che cacciavamo il teschio da qua eh ma tu ti sei dimenticato c'ho messo pure le lucine qua dentro per fare la magia le accendiamo ma si non ha senso sai che faccio c'è anche una cicatrice a questo cristallo in testa perché è un po' sfortunato che la mettiamo in fronte ragazzi una tua domanda ma voi avete la nintendo switch se si mi dite che gioco vi piace io conosco una mia amica che si chiama nina che la conosciamo un po' tutti sul mio canale ah la conoscivoli tu da nina si ne ho sentito parlare ne ho sentito parlare qualche volta seguo a me un po' mi segui insomma sei bravo sei un bravo follower metto molti likes bravo grazie e siccome io pure lo voglio vabbè non ho ancora la voglia però non c'ho i soldi per comprarmi la mi la regali tu a Natale mi la regali a Natale dai ti prego ah aspetta mi regali la tua mi ha fatto una guardata che non so se si è visto anche qui ragazzi non so cos'è cos'è un accumulo di colore che cos'è che cos'è un accumulo di colore eh sì perché non si chiudono esatto non si chiudono bene non possiamo godere come ricci insomma perché devi sempre soffrire nella vita non puoi avere il colore che ti spunta fuori dove l'hai comprato? questi qua sono i Liquitex sì da negozio di belle arti e sono te e più di Liquitex costano un po' di più che sono carini sono simpatici e non si chiudono ma vabbè non si chiudono invece quelli cinesi si chiudono guarda ecco i cinesi non c'è l'aria in questo caso i cinesi non c'è l'aria hanno vinto hanno vinto su questo su questa cosa ci sta eccolo è uscita ancora un po' di più c'è il teschio davanti però forse l'hanno vista dall'altra telecamera quasi peggio del grande fratello c'è tutto ecco falla vedere è esatto è bianco è bianca non è marrone oppure è marrone molto molto ragazzi secondo me mica di questo terra si rompe ve lo dico io ragazzi ve lo dico io sto parlando solo io praticamente eh sì perché tu sei la star di questo video vorrei fare altri video è stato Norberto è stato lui l'avete visto Norberto non fa guai per favore questo io lo facciamo dal letto a nonna stanotte la facciamo morire e cacare sotto dalla paura viene i ragazzi questo qui viene vicino a voi sul comodino e guarda nella telecamera quando dice queste cose scusatemi guardo questa viene davanti a voi come si chiamava Gennarino Gennarino no sì o Pasqualino Ciruzzo no Giorgio Genoveppo no Giorgio Giorgio abbiamo cambiato nome si chiama Giorgio Giorgio viene la notte viene la notte e per niente lui cerca di urlare ma non riesce perché non ha un collo non ha le corde vocali e quindi ragazzi vi morde il naso perché lui non ce l'ha e quindi è invidioso io sto facendo il colletto peloso secondo Enrico il video è divertente quindi se non lasciate il pollicione vi vengo a prendere a casa vi spezzo le gambe lui anche viene insieme viene anche Giorgio e vengo anch'io e viene anche Norberto che vi distrugge la camera la camera che faccia un bar alle telecamera io morirò io morirò in questo video muoio proprio questo video è molto bello quindi c'è la minaccia finale se non vi iscrivete al canale e non la like e commentate aspettate iscrivetevi accendete la campanellina per nuove notifiche e lasciate un like e commentate ragazzi è pauroso lo sa lui non lo sapete voi che dovete attivare la campanella accendere sta cacchio di campanella mi piace questa oh ma sto vedendo troppo carino queste costi costicosi ciao Giorgio come stai? non sto bene anche tu non hai il naso è vero cacchio mi sono dimenticato però forse non so se glielo faccio mi piace così è bello sì così è bello ragazzi sicuramente per convincere i miei giuntori a venire di nuovo qui commentate se mi volete di nuovo commentate e lasciate a 50.000 like 50.000 like che non ci saranno mai sul mio canale facciamo a 100 like a 200 è troppo ehi ah almeno 200 like io faccio 100 150 like a video dipendo dai video almeno 200 like faccio venire di nuovo e dico qua per una nuova puntata molto bella creando con i natale dobbiamo fare la versione natalizia adesso creazioni di halloween con enrico con enrico creazioni teorie e paure di orini teorie hashtag paure ho detto e lì andiamo a fare un attimo la merenda ci portiamo le merendine qua e mangiamo ma lui non me l'ha detto no te l'ho detto facciamo no merenda allora questo qua sai come lo chiamiamo jennino al momento sgranocchio anche se non lo stiamo sgranocchiamo ma stiamo censurato buttiamo la mano da dentro questo è delle streghe io mi sono fatto il caffè americano ho anche sputato mentre lo dicevo allora quando fate così sulla testa di Giorgio oggi l'ho sporcato di cioccolato no dannati pangoccioli pangoccioli e vabbè ci mettiamo il bianco sul pangocciolo però noi non lo diremo a nessuno eh no troppo tardi lo sa tutto youtube cosa che c'è la cioccolata su quel teschio adesso non ti preoccuparti ci pensiamo no ci penso a lui che ti ha sporcato no no basta che ma basta che mettila c'ho quel bianco su ecco io sto finendo di fare pipino il pistrelo 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 non puoi credere amico non puoi credere che ho fatto il pistrello nel bagno il pistrello nel bagno vai esprimi la tua fantasia vai si 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 morno mischia i colori adesso fallo sul rosso qua e fanno una bella sfumatura tramontosa beeeella vai si vai vai su meraviglioso una bellezza il tramonto è bellissimo ci mettiamo anche il blu il fucsia ragazzi vai vai secondo me ci sta benissimo benissimo sotto o sopra sotto vai 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 attaccalo vicino al rosso brava è bello sebo dentro al rosso ragazzi si ragazzi cosa vuol dire questa macchia tramontà di tramonto vuol dire che Giorgio a Giorgio Giorgio piacciono i tramonti se troviamo Giorgina Giorgina al tramonto Giorgina ah sarebbe la fidanzata di Giorgina lui la deve portare al tramonto ah ok perché Giorgina deve avere questi colori identici perché sapete i Giorgi ah ma sono una razza proprio si questi tipi di Giorgi hanno questa cosa ragazzi e poi sopra il giallo ci vuole il blu ragazzi ve lo ricordo sempre le cose non vanno copiate fateli come volete vogliamo parlare di copie quindi si e i davanti fatelo come volete ma il dietro dovete farlo per forza così se voi non volete farlo chiamatelo in un altro modo ragazzi e dico questo perché guardo qua e non guardo lì non lo so guardo qui non lo so comunque ti volevo chiedere una cosa visto che ha introdotto l'argomento copie cosa pensi della gente che copia tipo se trovi qualcuno che ha copiato un mio drago che cosa gli diresti a queste persone non è mai successo ci hanno provato un po' ma non è successo ancora ti direi che non sanno fare niente da soli magari non vendere le mie idee ecco si ispira fanno un proprio drago tipo per esempio se la gente non so se lo fanno sicuramente non lo fate giusto presente comprano i draghi le creazioni che fai e le rivendono a più prezzo ah dici addirittura si comprano le mie cose cioè le fanno simili e se le vendono a più ma forse le comprano da te e le vendono a più prezzo e beh forse quando morirò zio quando morirò che varranno qualcosa in più ci sarò io al posto va bene farei tu le mie veci le mie feci cosa ma no e sto pensando quanto a me tu vado e vedranno questo video tipo mi diseredano po' dalla famiglia no non ti manderò mai più a casa di zio Umberto quando sarò grande verrò tu secondo me a 18 anni vedrai questo video e mi dirai zio Umberto cancella quella cosa là su youtube perché ho vergogna no vergogna della mia vita ah sì ci metto anche un leak appena uscirà appena uscirà leak è una visualizzazione e devi anche commentare e commento come ciao sono il creatore il creatore di Giorgio perfetto non mi se vedo qualche impastore nei commenti impostore impostore ma che sarebbe nei commenti non lo so che sono questi impostori scusami impastori che si credono a me ah che fanno finta che sei tu sì e perché dovrebbero farlo non lo so credo di sì se lo fate dici che qualcuno farà questa cosa secondo me sì come si sono permettuti come si sono permettuti ma vabbè vabbè e mo adesso faccio col bianco ci stanno rintracciando chi ci sta rintracciando le FBI sì perché stiamo parlando di cose che non possiamo parlare sì credo ok guardate bene Giorgio per favore è proprio carino non lo sai che? adesso il bianco non rompere il coccio anzi invece di darle a mio padre me lo prendo proprio io sì ma no l'abbiamo fatto per suo padre no no chi te l'ha detto e se lo deve portare giù a scalavera secondo Terry io devo fare un sciuffetto di peli in testa carina simpatica e coccolosa sì sì sono stato legando secondo me sì oppure lo lascio così adesso lo faccio vediamo se viene bene se no glielo tolgo in caso sei allibito allibito conno senza ciuffo fai tu vedi cosa guarda come lo vedi semmai un po' a me piace non so un po' dietro eh sì forse sì sì meglio di me vabbè ma gliene metto un altro di ciuffettino vicino in ogni caso questa è giusto la base dove poggiare gli altri ciuffetti perché guardo qua vabbè mi confondo sempre norberto sta guardando il pipistrello molto male solo vuole mangiare sì secondo me fa come la fenice no che la stava cucinando la stessa la fenice la fenice sta bene sta bene lei su instagram si chiama phoenix e lei è proprio la mamma delle fenice perfetto è proprio perfettissimo non poteva andare a casa migliore una casa migliore mamma mia mamma mia perfettissima oggi io pepino è finito quanto è dolce è bellissima è bellissima si può di bellissima non lo so secondo me la gente già lo vuole pepino chissà se lo volete scrivetevi in privato nel caso ci facciamo ci facciamo dove lo sanno mi scrivono su instagram facebook su instagram ok io pepino l'ho finito tu hai finito a Giorgio si ti do la il pennarello questo è troppo doppio puoi vedere anche un pelo di qualche animale qua Henry non ce la è è puntato è puntata e mettere se ti voglio bene ti amo papà scrivi una lettera d'amore muoio muoio è puntato però se ci fa Henry con la Y N puntato R puntato Y non puntato vai così a sbuffo va bene lo mi piace vediamo un po' ahhh metti la con la I è un TVB da qualche parte dove sta qua TVB metti distante così è un messaggio in codice ti voglio bastonare no dai lo vuoi bene a papà dai perfetto la prossima volta facciamo anche una cosa per mamma questo giro abbiamo avuto poco tempo giusto un'ora di video abbiamo finito si finiamo il video allora avete visto io ho fatto a Pipino che è minuscolo è dolcissimo e Righetto ha fatto a Giorgio fateci sapere se vi sono piaciute le nostre reazioni se vi è piaciuta la compagnia di Enrico e ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate un bel pollicione e commentate esatto perfetto ah io di solito nel video finisco in una maniera come finisco faccio acchiappateville quindi dobbiamo farlo insieme come si fa grazie a tutti per essere stati con me ha detto tutto già il mio Enricuccio acchiappate devi fare così baciavi la mano va indietro e lo lanci acchiappateville ok 3 2 1 acchiappateville ciao 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 come voi li fa musica c'hanno l'acqua la bottiglietta d'acqua a terra mi sto volendo il naso nel frattempo non hai cacchina del naso vabbè a spegnere a metterla a lavorare a favore che succede c'è tutta l'acqua oh no oh no oddio chi è ciao